L'Inter ha vinto per 3-1 sull'Adana Sport che era andato in vantaggio con un rigore di Ozer, poi nella ripresa autogol di Mustafa, gol di Bini e di Altobelli per lo scontato successo a Neroazzurro. Le immagini di questa partita contiamo di proporvele in Eurogoal che andrà in onda oggi alle 17.50 sulla rete 2. Mentre sempre sulla rete 2 alle 15.30 vedrete tutto l'incontro del Napoli e alle 17 sulla rete 3 una sintesi della partita della Roma. Ed è tutto per oggi.